Il problema è che il problema l'avete creato voi, l'accoglienza diffusa sarebbe vincente nel momento in cui si vanno a portare nei centri di accoglienza, anche a livello locale, quelle persone che hanno realmente diritto ad avere il beneficio dell'asilo politico. Invece voi che cosa state facendo? Voi state portando una serie di persone che non si sa chi siano, non si sa dove vanno a finire, e nella maggior parte dei casi queste persone che sono negli alberghi dopo pochi giorni spariscono e non si sa dove vanno a finire.